ragazzi come sempre quando non vogliamo trovare le cose stanno tornando da un'indagine e siamo passati da questa casa che è in mezzo al bosco abbiamo trovato la porta aperta cioè guardate i rovi a che altezza siamo e c'è dentro tutto ragazzi tutto tutto adesso proviamo a entrare c'è qualcuno tutto c'è madonna che spavento un peluche pensavo che era un animale no guarda che roba no c'è pacchetto di sigarette qua c'erano sfullate guarda lì c'è pacchetto di rimondizia con le sigarette pie con le sigarette pie madonna cazzo c'è c'è tutto però è roba recente questa guarda qua che fumano la bottiglia crack guarda scraccano guarda se se va che schifo pure le carte della donna sta bambola nera di bruciato di droghe ci sono ci vengono i tossiconi guarda qua la crocca guarda se si qua ci fumano ma era qua la spagnola si si non toccare niente birre no no merda non toccare di accendini si si è un posto di merda guarda come hanno fatto per tappare le finestre hai visto no no andiamo a fare dei coglioni non c'è qualcosa da tenere in mano è un coltello sa che se li sono già presi i coltelli qua pizzamatic mamma mia e sono solo un uomo vuoi vedere che ho trovato da tenere in mano? minchia ti basta questo? e la stendiamo la pasta panettone scadenza 2017 no ma è recente è merda guarda lo vedi che sono qua a cominciare tutte queste droga 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 hai ragione non c'è neanche un coltello no non posso dire il cazzo non lo vi ho discusso sì ma qua ci sono stati fino a poco tempo fa questo però è tutto sbriciolato topi di solito che fanno queste cose guarda tutto polverizzato così topi vuoi vedere anche il frigo allora non toccarlo con le mani no no non tocco niente ah vuoto non tocco niente è uno schifo assoluto guarda che le tazze comunque aveva fatto tutto guarda le tendine sulla tazze tutto guarda l'olio e l'aceto tutto dai andiamo facci su vedere se c'è qualcosa mamma mia mi hai posto del cazzo ma che schifo fammi stare davanti a me si 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 passa guarda se il bisogno ce l'ho io il mattarellino la tua spira si sta mollando io devo tirare fuori no qua nessuno passa di qua guarda qua però questo metterà porca troia ragazzi cosa stiamo facendo c'è qualcuno scarpe vestiti puliti no che merda ci vivono qua ce ne andiamo Ale occhio che c'è una macchina fuori andiamoci 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 ah non mi piace zaini no qui hanno frugato dappertutto e sono presi vestiti e cose ma ma c'è qualcuno o c'è stato o c'è stato però con questi rovi qua non penso però ma ste bestie se vivono in questi posti qua pensano ai rovi però fammi capire questo è qualcosa di un po' prova a entrare entra c'è qualcuno? se si ce ne andiamo eh c'è qualcuno dillo ehi Cristo che puzza no che puzza che schifo andiamocene via ma i piatti hai visto? c'è una foto di bambini via via andiamoci che cos'hai visto? c'è una foto di bambino ma si vedi il materasso che c'è ma le tute pulite no no queste pulite qua ci tornano adesso andiamo andiamo perché ci arrivano anche per questo è un po' più di merda visto che fumano craccia c'è poca troia ragazzi che cazzo abbiamo trovato anche al buco e qui c'è un pozzetto che si muove oh raga ciao è stata una cosa veloce spero che vi sia piaciuto mi raccomando apprezzate l'impegno nostro a fare queste cose cosa abbiamo rischiato mi raccomando iscrivetevi al canale dalla Raffi alla prossima adesso grazie a tutti